o chi facciamo oggi raga ma non so a parte manca tia sono qua raga io lo sento ma qua sotto dov'è ascolta ma non vi sembra strano st'albero? tia ma sei a testa in giù pirla ah no basta ok ragazzi tutti quanti manca o qualche d'uno e ragazzi cosa facciamo oggi quello che gli americani ancora sono andato facciamo l'impianto di farm la farm impianti da farmi d'impianto togliamo tutto sta baradaro perché c'è parte della intro però infatti vai vai togliamo tutto via 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 teniamo lo sketch la terra da me che mi servirà grazie scopri tutti i piedi si bastardi vai anche legno taglia taglia una mela i macchinari a mela allora questa era la base ora cerchiamo la centraggine la scala così è pessima ma vabbè aspetta è lui che ti dico quando dovrebbe essere al centro allora questo upgrade è 3 3 più 1 è 4 giusto per cui qua dovremmo andare il planter giusto? ok si come notate intanto abbiamo captato già tutto il nostro che ci serve è giusto? ragazzi non fatemi sbagliare no perché l'hai messo così? 4 devi metterlo sotto la terra lui infatti è sotto la terra lui raga la differenza la madonna mia quanto fatti casino no e poi viene troppo basso poi mettiamo i tubi e la stilexander no mettete la terra sopra mettete la terra più sopra ma è giusta la forma? si è giusto le misure sono giuste ah 60 90 60 no come era si era 60 per 42 mettetela dai non ci arrivo mettete ma è 18 per 16 guarda che ti stai sbagliando no non ci arriva ma perché ship si lancia? non lo fanno ma che problemi no veramente toglietemi va broccoli toglietemi dai vai perché fare così vi fa male il culo no? 1 2 3 ops è l'esperto se lo vuoi ed è caduto giù no lui 1 1 2 3 4 questo non c'entra raga ma che cavolo stai facendo ma ragazzi ma sembrate 4 barbò ma dai aspetta morio sto contando perchè stai continuando sotto? ragazzi sopra minchia e una patra e vi caccio ok 4 mi dico parla con te ma perchè Luke sta continuando sotto? ma padrone 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 sbaglio sempre ma sbagli 1 2 2 mi hai confuso padrone 4 oddio l'ho visto giù vieni vieni bravo buona ma giusto 1 2 3 e 4 vabbè non c'è più terra l'hai giù tu a me lo vedo giù a terra a terra a will a piazza terra terra è uscita un po' di terra strana si ma qua manca un blocco raga una striscia manca ragazzi ma c'è in 8 sopra ma ce la fate ma chi mette il blocco con la flata alla fine guarda lì ho solamente tu sto mettendo la terra sopra ce li picchio guarda ce li picchio io non ne ho terra ho cercato nel gesto non ce n'è oggi le prende will dove è che manca una fila? qui perchè manca una fila? è giù è 4 è giusto ragazzi perchè da questa parte perfetto eh boh non c'è se c'è altro è 1 2 3 4 è giusto ragazzi 4 e 4 è giusto ragazzi mi bravo will perfetto perfetto ok fermi tutti fermi tutti parlanese ora facciamo il contorno così di 2 ah di 2 perfetto e slab piccone perché c'erano le slab meglio io le slab ma ragazzi però ma mamma mia ma c'è il brato che ti ho sottato da poi questo un po' l'affatapo sembriamo rio rio vabbè dai minchia 1 prendete i cornicioni intanto di coble sono per favore sono nella cesta grande vicino la farm d'impianto vado vado ecco stavo cadendo giù è colpa di miticaccio ma che oggi le prende ma veramente willa mi fai cadere giù ti picchio oggi è loretta ti ha fatto tramite il microfono dove lo metto lui intorno giù no non c'è ma che mi sta a combinare pensavo tessi morto vai fate il contorno dai dai contornate raga vai contorno no è quell'altro lui non è quello la canta lui è apposta fatto ma questo è il cielo no questo è il centro eh te l'ho detto con la canta sì e si fanno le scale che poi scendono vabbè facciamo dopo oh mi ti ritiene le palle eh che porca eh eh porca questo è matto perché stai perché ci fa lì andiamo giù andiamo giù no andiamo su andiamo su andiamo su eh vabbè andiamo su ora di qua sì eh ma che ce la fai che stai facendo guardi guardi l'orizzonte è un po' rotto quel piccone dove vai? piccone di merda mi hai lasciato tu mi raccomando una cascata? sì Joe dovresti corniciarmi però aspetta dimmi tu quando dovresti togliere i cornicioni a questi questi ok inizia a mettere qua i dati mettiamo l'ervo al centro quanto lungo ancora quanto non allungo ancora raga avete preso il macchinario e dai per terra ok ci mettiamo dentro questo maradam e ci mettiamo d'altra parte il coso spieghiamo il motivo abbiamo spiegato l'altra volta le torce ragazzi delle torse non abbiamo già spiegati perfetto le torce ragazzi torce torce ora dovremmo portarli la corrente allora in poche parole da qua esce l'ambaradam ok e dobbiamo farla arrivare ragazzi qua la cornice aveva anche con chiude aspetta ora qua un attimo di pensamento ragazzi questi tubi devono arrivare là in fondo tutta una cagna capo cazzo abbiamo una cosa che teletrasporta per certo gli item abbiamo il bar l'energia tessera possiamo fare il bar che trattere trasporta si può lo con lo facciamo io due io ho i barrel abbiamo un ender pearl ce li abbiamo si si vediamo subito allora si chiama b space senti b space qualcun altro eccolo qua ragazzi allora vai al centro mi sa che è più difficile quanto pensare un ender chest un deep storage un ender pearl aspetta 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 ma tanto vale facciamo il test scusami a sto punto che me ne fottili sto coso del barrel eh perdonami l'ender chest è facile abbastanza serve solo ossidiana infatti se facevamo l'ender chest allora facciamo l'ender chest raga è l'ender chest base di minecraft si si fa con otto ossidiana e un ender pearl eh ma l'ender chest con la base fa schifo però vabbè ma tanto ci dobbiamo fare l'upgrade del barrel che ci frega non hai capito l'upgrade del barrel si fa con l'ender chest ho capito però noi da lì per trasportare legna foglie eccetera eccetera è un barrel e trasporta una cosa xander ma non è più di uno è sì con l'ender chest fai tutto beh quello è vero è l'ender chest non c'è facciamo l'ender chest è normale vai ok quella vaniglia si dai abbiamo deciso ragazzi ci siamo un po riuniti di poter fare potremmo riuscire a fare il testo i due le serac allora sul fu lo abbiamo andiamo su nella ora che quanta roba troppo sette diamanti sul suo lavoro troppo anche sul fu però vedete i barri non mi dici cosa c'è dentro questo è l'ominio che toglierà le palle non abbiamo sul suo ragazzi io ce n'ho uno sul fu ragazzi si trova colpo versando vuoi dire a noi come si trova il sul fu dopo il macello che abbiamo fatto l'altro giorno per prenderlo e ma il problema ragazzi che il sul fu dove la volevamo c'era e c'era il bar e lì sul fu e che sta non è quello che possiamo farlo al massimo ma abbiamo l'auto craft auto coso qua perché non sta facendo il due lo sul fu c'era qualcuno che l'ha preso raga stiamo vedendo nella nelle ceste non so da che materiale esce lo zolfo non so da che materiale esce oppure dal carbone polverizzato solo che io metto a polverizzare è impossibile che non l'abbiamo trovato va bene non ce ne serve molto tanto ne bastano due unità se non sbaglio eh non siamo a parlare di chissà cosa eh se ne servono quanti ne hai tu will uno eh will ne ha già uno dai dobbiamo metterci a trovare l'altro ne serve due il zolfo eh già il coso te lo da doppio eh due zolfo è finita la corrente qua qua giù dai già già c'erano due c'erano due c'erano due c'erano due per ora adesso ne esce l'altro io non devo fare la pipì ne esce un altro vai due ne ho io andiamo ok perfetto io ne ho due xander ok ok anche io ce ne ho due c'erano due c'erano quale e mezzo vai ti lo messi qua ok dobbiamo unire l'hai rotto le palle dobbiamo unire lo zolfo con altri materiali dai che sarebbero ora servono redstone allora aspetta le fiamme sono qua i blazes si blitz powder dai qual è la crafting questa ok perfetto ok perfetto ora perfetto quelli vanno messi nell'induction smelter insieme all'enderium ingot l'enderium ingot l'enderium ingot si fa in un modo un po' particolare no non è l'enderium ingot eh che dicevo è l'enderium blend vabbè si per fare rendere ok tin e shiny metal abbiamo qualche ingotto però di quello eh qua ne abbiamo due qua ne abbiamo due io vado a fare intanto guarda qua dentro le cesta eh infatti abbiamo abbiamo un derium ingot really si l'ho messi a fare adesso abbiamo un bel po' di roba eh quanti ne vengono qua eh quattro servono otto si servono altre due polveri altri due polveri di due polveri raga sì quindi dobbiamo sciogliere le enderpearl no altre quattro sì altre sei polveri mi ha dato due lingotti oh fischia sì da due polveri due lingotti facciamo lingotti dai come si fanno eh dobbiamo sciogliere le enderpearl dentro il coso qui e metterle dentro un secchio e ci serve anche polveri zed tin e polveri zed iron 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 no niente ragazzi dentro l'acezza non ci sono quei lingotti polverizziamo l'enderpearl no mi avete un intero il liquido si qui dietro c'è il macchinario l'enderpearl li abbiamo wow e qua ce ne sono quattro prende l'enderpearl e portateli qui dietro io sono peripai per me dove è il liquido qua? ma aspetta ma di qua abbiamo la redstone toglila sto rimpiendo il secchio secchio di ender per lui secchio di redstone ti lo vuole? questo qua non si viene la polvere di team sta già nella crassa ce n'è poca però mancano i secchi di ender per lei servono due secchi vuoti dobbiamo togliere questo verso si toglie col piccoli ragazzi fate troppo casino primo, secondo e terzo sono 4 polveri di team no sono 3 per 2 sono 6 di team e 2 di shiny wingot ma ragazzi ma guardate il crafting invece di parlare a vanvera che vanvera c'è anche lei io lo so a memoria uno di shiny uno di shiny ma ce l'abbiamo lo shiny? si ce l'abbiamo te ne ho visto uno servono altre 3 ender per mettetene altre 3 solo 3 chi è che ce l'ha? ma io scopo ragazzi però finiamo li prendo ok la team la team la team abbiamo fatto due perchè le metti 6 aspetta lì tolgo 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 vingotti di platino dalla farmacia? si ecco portali al pulverizer mamma mia ma perché? in pulverizer ma perché siete così imbraniti? no è fatto è fatto vai willa muoviti butta nel pulverizer butta butta come nel pulverizer? io sono qua c'è uno ma ragazzi ma che fate? ma che fate? stiamo aspettando vai willa dai mettete dai dai vingotti già ha fatto quattro di questi riservo un altro riservo un altro nel pulverizer vai willa dai willa fatto ok l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo arriva lo shiny arriva 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 che casinisti che siete mamma mia eccolo shiny vai 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 prendilo prendi lui dove sei? io sono qua la induzione ma lo toro ma lo già sta induzione gira 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 scegli il bro brondo ok te ne ho avuto altri altri 4 apposito ok due nice 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 preparate due diamanti preparate due diamanti preparate due diamanti preparate due diamanti i vetri i vetri li avevo messi a fare io li ho presi io sopra ti ha li ho già presi li ho già presi è per oggi un diamante è per sempre io ho già dove sei? dove sei? con le parole di alvano ricali due diamanti ragazzi arrivano 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 4 bronzi ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho vai metti willa dove gli hai messi li avevamo willa enderperd per liquido non possiamo rifare l'enderperd ok ok uno sta facendo mi sa proprio di no ne servono altri eh si ecco c'è qualcuno che parla ci sono delle voci madonna il microfono ti ha il microfono servono altre due altre due enderperd altre due altre altre due willa tessera che abbiamo fatto dai dai una due perfetto avete preso tine bronzo mai ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io occhio tine otto bronzi dai eh non è t no silver silver vabbè quella cosa lì ah mi ha fatto venire il dubbio detto che cambia la recycle mamma mia allora tessera uno manca un altro dai l'ultimo 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 dai è ripeto è pieno fatto l'ho preso io l'ho preso io l'ho preso io l'ho preso io l'ho preso Xandri è nella craft 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 gg tessera che tagliamo di alcuna siamo tutti tutti teleportanti 8 anni e fare due tessera mamma mia mamma mia mamma mia anzi no mamma tua allora andiamo toccano semplici ragazzi vi farò dire il pianto nel prossimo episodio siamo figli di puttana lo so ma è così che va la vita ciao 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 ciao